buongiorno oggi è il 19 dicembre 2011 sta finendo un anno ma quel che più conta e quel che più sentito da tutti in questa settimana ci stiamo avvicinando al natale allora io vorrei farvi veramente tanti auguri di buon natale vorrei che questo fosse per tutti un vero natale 2011 anni fa la storia ci racconta che nacque gesù un uomo prescelto un uomo prediletto da dio che noi non abbiamo assolutamente capito a tal punto che l'abbiamo fatto fuori e la triste costatazione è che comunque dopo 2011 anni a parte qualche caso qualche eccezione il nostro modo di essere lasciamo perdere le evoluzioni che ci sono state a livello scientifico e a livello umano ma il nostro modo di essere religioso è grosso modo per la grande massa la grande popolazione tale quale a quello di 2011 anni fa festeggiamo il natale festeggiamo la nascita di gesù ma poi regolarmente durante l'anno lo facciamo fuori bisogna porsi molte domande in merito in questo periodo la storia ci sta dando delle grandi lezioni perché siamo di fronte ad un baratro la recessione mondiale non è lontana ciò ci sta a insegnare che qualcosa evidentemente non funziona certo un video è troppo poco il tempo a disposizione in un video per approfondire questi discorsi che comunque richiedono tanto spazio tanto tempo perché ci sono tante porte da aprire ma questo video vuole essere solamente per stimolare alcuni punti di riflessione forse qualcosa in noi va cambiato va ricercato forse forse la nostra identità non è quella che noi pensiamo sia ieri mi è capitato di discutere così allegramente noi io in questo in questi giorni sto ho intrapreso un determinato tipo di dieta per esempio e ieri a una festa si scherzava su questa dieta e io gioco rido e scherzo però mi rendo conto di quanta disinformazione ci sia anche sulla nostra alimentazione di quanto poco la gente conosca rispetto a chi magari la pensa in modo diverso da loro in modo alla alla religione cattolica per esempio altre regioni come la pensano di quanta poca informazione ci sia su certi campi che invece sono molto molto importanti come può essere il campo della psicoterapia come possono essere altre situazioni risolutive di determinati problemi c'è una disinformazione veramente spaventosa e un'informazione distorta imperterrita che procede a binario unico quindi io veramente porgendo a tutti i miei più sentiti auguri di cuore di buon natale vorrei che questo natale faccia nascere in ognuno di noi la nuova voglia di conoscenza la nuova voglia di sapere la nuova voglia di imparare la nuova voglia di capire è il più grande regalo di natale che credo ognuno di noi questo possa ricevere vorrei potervi regalare in questa settimana una cosa ve la regalo senz'altro perché in questi giorni vorrei postare dei video io in questi in questo periodo sono rimasto un po assente dallo schermo ma altre cose mi hanno tenuto impegnato e questi giorni non sono da meno ma comunque tempo permettendo vorrei regalarvi il mio video sulla mia preghiera di natale personale che fa un po da da confessione io quest'anno la confessione la farò così vorrei regalarvi un video con città ari ecco il mio amico devoto di krishna vorrei riuscire a fare un video con lui parlando per l'appunto un po del natale è importante viverla questa festa è importante pretendere un regalo in questa festa è un regalo dobbiamo pretenderlo da noi stessi dobbiamo pretendere di riscattare da noi stessi la nostra vera identità cioè convincerci una volta di tutti una volta per tutte scusate convincerci che dobbiamo assolutamente metterci alla ricerca di ciò che noi siamo perché noi dobbiamo sapere alla perfezione cosa siamo allora se lo sappiamo se ne siamo convinti al cento per cento dobbiamo prendere in mano la situazione e cominciare a comportarci per quello che noi crediamo di essere realmente ma siccome pochissime persone ma veramente molto poche se scavano dentro loro sono convinte al cento per cento di essere quello che sono allora è venuto credo il momento per mettersi alla ricerca e mettendosi alla ricerca due cose si acquistano immediatamente si acquista la tranquillità si vive molto più tranquilli e molto più sereni e si acquista si acquista il biglietto per la conoscenza perché mettendosi alla ricerca della propria identità si comincia a conoscere oltre che se stessi un sacco di cose nuove per oggi è tutto ci sentiamo presto ecco questo è il primo video ufficiale del mio augurio di veramente un buon natale ma ne seguiranno altri comunque sia buon natale a tutti buoni preparativi di natale a tutti